Ci troviamo di fronte alla sede storica dell'Unione Sindacale di Base qui a Talsano in Piazzetta Loiucco e sono accanto a Franco Rizzo. Perché Franco? Finalmente perché c'è stata una sentenza in merito alla controversia che era stata sollevata per l'antisindacabilità di quel compromesso che era stato fatto a settembre. Sì, noi abbiamo denunciato Arcelor Mittal e portato in tribunale a Taranto per condotta antisindacale per la non applicazione di quanto previsto all'interno dell'accordo sulla scelta del personale, su criteri che devono essere applicati nella scelta del personale. E con grande soddisfazione oggi registrava una vittoria non dell'USB ma dei lavoratori perché il giudice ha riconosciuto questa nostra tesi, quindi condannando ILVA al comportamento antisindacale sostanzialmente. In pratica in che cosa poi questa sentenza si andrà ad applicare? Quale sarà la concretezza? Cosa si andrà a fare? Con credenza che il giudice dice, allora voi non avete fatto quello che c'è scritto all'interno dell'accordo, poi dice spiega come devono applicare i criteri, poi dice all'ILVA ora hai 60 giorni per fare una nuova classifica, degli 8200 che dovevano essere mediante l'applicazione di quei criteri, fatto salvo il diritto acquisito già di chi ha firmato il contratto. Quindi dice 8200 che hanno già firmato, stanno dentro e rimangono dentro, adesso stila la classifica vera, originale entro 60 giorni e consegnala al sindacato e ai lavoratori. Quindi da lì come dire si aprono scenari di un certo tipo per Arsenal or Mittal. Quindi una vittoria da tutti i punti di vista perché? Perché i lavoratori che erano stati assorbiti non rischiano la loro sedia, in più coloro i quali si erano trovati al di fuori perché non erano stati eseguiti questi criteri saranno insomma reinseriti nelle classifiche. Ecco sì, vorrei tranquillizzare anche le persone perché tra l'altro ci colavano voci strane che alcuni soggetti stavano mettendo in campo, non ci sarà uno che rientra e uno che ne riesce, ci sarà 8200 attuali dentro più quelli che eventualmente rientreranno in quelle classifiche. Quindi possiamo stare tranquilli diciamo, noi ormai ci sentiamo parte di questa controversia che c'è stato. Oggi ci sono tanti lavoratori qui fuori per? Beh, oggi stiamo aspettando l'avvocato, quindi faremo la riunione e spiegheremo nei dettagli cosa è accaduto e cosa dice la sentenza del giudice. Poi ringrazieremo i lavoratori perché senza di loro noi non avremmo avuto la forza di portare avanti questa avvertenza, io lo dico in tutta onestà. USB è stato lo strumento che i lavoratori hanno usato per portare I'm Investigo in tribunale. Perfetto, ti ringrazio Franco Rizzo, noi aspettiamo quindi l'avvocato e vediamo un po' nella parte più tecnica cosa ci andrà a spiegare. Grazie ancora. Grazie a voi. Non bisogna fare polemica, lo dico e lo ribadisco, è una vittoria non del sindacato USB ma dei lavoratori, questa è una vostra vittoria perché senza di voi noi non saremmo arrivati, senza la fiducia che ci avete accordato e parlo di tutti i lavoratori qua presenti, lo voglio dire in tutta onestà. Mi è venuto un po' da ridere perché ho letto il comunicato di I'm Investigo che ha partorito dopo 13 ore della sentenza e praticamente dice in sostanza che manca solamente che avessero scritto alla fine abbiamo vinto la causa, mancava solo quello perché le domande dell'USB sono state rigettate. Mario vi spiega in concreto che cosa è successo, io poi vi dico dal punto di vista sindacale, Mario vi spiega la sentenza, io vi dico poi dal punto di vista sindacale qual è l'orientamento che noi abbiamo che è sempre quello che già avevo annunciato e che si fa sostanzialmente. Un ringraziamento a Mario che è stato colui che ha fatto il lavoro vero all'interno del tribunale, chi era presente ha visto, sono presentati con un pool di avvocati che non finivano mai, a un certo punto tu trovavi le persone al corridoio, scoprivi che erano avvocati di Arcelor Mittal e noi con il nostro bravissimo avvocato l'abbiamo spuntata. Un ringraziamento anche mi sento di farlo perché è stato presente a tutte le udienze, a Mino Borraccino e a Regione Puglia che comunque da questo punto di vista, hanno sempre supportato le tesi dei lavoratori, sostanzialmente c'è la domanda prima, noi abbiamo portato avanti una serie di aspetti, in realtà il giudice poi alla fine si esprime sull'aspetto generale la classifica, all'interno di quelle classifiche il paradosso è che ci rientrano tutti, sia i lavoratori che sono stati sostituiti o quella parte che è stata sostituita dei lavoratori delle ditte terze, diciamo che negli 8200 nella classifica che Ilva dovrà andare a stilare sostanzialmente, l'avvocato dice ne vedremo delle belle, più o meno rientra tutta la platea dei lavoratori che sono stati giustamente a lamentarsi per il fatto di essere stati discriminati, io la dico così come l'ho già comunicato ad alcuni colleghi di altri sindacati, a noi ci interessa come dire essere pratici, c'è una sentenza che rischia di aprire come ha detto Mario, perché io sono molto curioso di vedere come faranno le classifiche oggi, poi tenete presente che Mario l'ha dimenticato, ma lì il giudice dice che tu devi dare la possibilità ai sindacati, firmatari dell'accordo e quindi anche ai lavoratori di andare a verificare, quindi paradossalmente si innescherebbe un meccanismo che secondo me ammettere tanto piacere non gli farebbe. Io ve lo dico qua, lo dico proprio in massima tranquillità, l'ho già detto a qualche collega di altri sindacati, su questo io non voglio polemizzare con nessuno perché ognuno ha la sua linea, tanti di voi lo dimostrano perché non sono manco iscritti nostri, non vi abbiamo chiesto la delega e non ve lo chiederemo, perché l'obiettivo nostro è quello di far rientrare le persone che stanno reclamando il diritto di andare a lavorare. Siamo disponibili, così come ho detto ad Arsenal Mittal negli ultimi tre mesi, l'ho detto oggi ai colleghi, a partire dalla sentenza e a chiudere tutta questa faccenda, facendo rientrare quelle 150-200 persone, quelli siete sostanzialmente che stanno reclamando il diritto perché è ingiustamente messi fuori, noi siamo disponibili anche a fare accordi, a mettere tutto da parte, l'alternativa qual è? Che devi applicare alla sentenza del giudice e lì si innescherebbero meccanismi particolari, lo dico anche perché faccio una battuta che non è tanto una battuta, oggi dopo tanti messaggi di auguri c'è stato pure qualcuno che mi ha mandato l'audio, mi ha detto che potevi fare il c***o perché volevo rimanere in AS, c'è stato anche qualcuno che mi ha fatto la battuta, mi ha mandato l'audio dicendo frate avessi fatto la c***o, volevo rimanere in cassa integrazione, però il punto qual è? Noi riconfermiamo la disponibilità, ecco lo dico perché ci stanno guardando, riconfermiamo la disponibilità eventuale a trovare una soluzione a breve termine senza aspettare i 60 giorni, non vogliamo chiedere 1700 persone dentro lo stabilimento, tanti di quelli magari non avrebbero diritto, vogliamo chiedere che coloro che stanno reclamando il diritto a rientrare, cioè voi, cioè di assumere quei lavoratori e di chiudere definitivamente la partita. L'alternativa è applicazione della sentenza del giudice, qua smentisco qualcuno che sta dicendo se fai ricorso non sei obbligato a fare le classifiche, non è così, la sentenza è efficace, è esecutiva, non viene sospesa l'esecutività. Entro 60 giorni tu comunque sei obbligato a fare, io non voglio arrivare, lo dico perché l'interesse primario è quello di far rientrare i lavoratori, cioè a me parte la soddisfazione per il gran lavoro che l'organizzazione ha fatto e che Mario Soggio ha portato al termine, l'obiettivo nostro era e rimane quello di soddisfare le esigenze di tanti partiti di famiglia che sono qui presenti che stanno reclamando giustamente il diritto di andare a lavoro. Questo lo dico, faccio un appello visto che ci state pure riprendendo, perché questa è la vittoria vostra, l'ho detto prima quando Angelo mi ha chiamato, l'USB oggi è stato lo strumento che ci ha consentito ai lavoratori di arrivare alla vittoria, ma l'unico interesse che abbiamo, quello di fare giustizia, è di ripristinare una condizione di normalità. Diciamo che oggi la soddisfazione è perché il giudice dice che non ci mettono l'imbarazzo, gli 8.200 già assunti non si toccano perché hanno il diritto acquisito, perché il rischio vero era che a un certo punto dicesse annullo tutti gli atti consecutivi al 6 settembre, lì sarebbe stato veramente un caos totale, però questa sentenza ci mette uno in una condizione di andare a ripristinare la normalità, due l'ho detto, lo ribadisco, la porta è aperta, se Arsolo ruole con gli altri sindacati, tutti e quattro insieme, ci sediamo, ragioniamo, facciamo un accordo e facciamo rientrare voi che state regalando il diritto, che avete il diritto di stare dentro e chiudiamo definitivamente sta partita.